Buongiorno, oggi chiediamo quante soluzioni ha l'equazione 7 sen x più 2 cos quadro x uguale a 5 nell'intervallo 0 compreso 2 pi greco. Una, due soluzioni, tre soluzioni oppure darà quattro soluzioni. Vediamo insieme la nostra proposta di soluzione. Riscriviamo il testo dell'equazione e utilizziamo ovviamente il fatto che il cos quadrato di x per la relazione fondamentale è uguale a 1 meno sen quadro di x. Quindi otteniamo 7 sen x. Svolgendo i conti abbiamo più 2 meno 2 sen quadro di x uguale a 5. Portiamo tutto da una parte e otteniamo questa equazione che risolviamo mediante un cambio di variabile, cioè poniamo sen x uguale a t e ci ritroviamo a risolvere un'equazione di secondo grado in t. 2t quadro meno 7t più 3 uguale a 0. Questa mi dà due soluzioni in t che sono esattamente t uguale a 3 e t uguale a 1 mezzo. Noi ovviamente vogliamo trovare x quindi adesso torniamo a risolvere sen x uguale a 3 che è impossibile, e non ha soluzioni, e sen x uguale a 1 mezzo che ovviamente invece mi dà soluzioni nell'intervallo proposto dal quesito. Sen x uguale a 1 mezzo all'interno di 0,2π mi dà esattamente due soluzioni che sono π sesti e 5 sesti π. Avendo trovato le soluzioni e avendo visto che sono due, possiamo dire che la risposta esatta per il nostro quesito è la B. Spero che sia tutto chiaro. Ragazzi, ci vediamo domani con un altro quesito. Auguro a tutti una buona serata.